Getili telespettatori ben trovati allo stadio Nino Caltagirone di Mussomeli per questo spareggio play-out di prima categoria tra la Chiara Montana, Mussomeli e le città di Castellana. Chi vince rimane in prima categoria, chi perde retrocede in seconda, la Chiara Montana squadra di casa ha il doppio vantaggio del pareggio al centoventesimo dopo i supplementari. Vedremo tutto quello che succederà con le immagini di Noi del Platani con Rino Pitanza che vi terrà compagnia insieme a Carmelo Orlando. Andiamo subito con le formazioni, il città di Castellana schiera Enrico Giunta, Cascio, Diego Di Ganci, Abate, Mascellino, Roberto Giunta, Albanese, Pace, Russo, Norato e Danilo Di Ganci. In panchina mister Fabio Daidone porta con sé il secondo portiere Castrianni e poi Geraci, Bellina, Di Prima, Farinella, Librizi e lo stesso Daidone. La Chiara Montana schiera, Maritato, Lomonaco, Messina, Catania, Capodici, Marangon, Palumbo, Orlando, Saia, Alessi e Mangiapane. In panchina mister Vincenzo Sorce ha con sé il secondo portiere migliore e poi D'Amico, Calà, Portella, Palumbo, Monella e Vincenzo Misuraca. Arbitro dell'incontro il signor Pantaleo della sezione di Marsala. Come marsalesi sono gli assistenti Barone e Bilardello. Tutto è pronto, fischia l'arbitro, parte Alessi, il cross, il tentativo, il colpo di testa tentato da Palumbo. Prova adesso Saia, raggiunge la sfera, ci riesce Saia, il tentativo, buona l'intenzione ma si oppone, abate. Il cross, il colpo di testa, attenzione, c'è il fischio dell'arbitro. Calcio di punizione, città di Castellana, Norato sul pallone, tenterà la botta verso Maritato, fischia l'arbitro, parte Norato. Il tiro e c'è la parata di Maritato in calcio d'angolo. Lomonaco, ferma la palla, Lomonaco cerca uno spiraglio per provare il tiro. Lomonaco, il tiro, termina non distante dalla porta di Enrico Giunta. Poi ancora Lomonaco, Lomonaco, Lomonaco ancora. Prova il taglio, c'è Saia lì, non c'è il fuorigioco, Saia, il tiro, ancora il gol. Chiara Montano è in vantaggio, Saia uno a zero. Lomonaco tiene palla lì, ancora Lomonaco in area. Entra, un po' di spazio per lui, prova il tiro. Non termina lontano dal palo di Giunta. Prova ancora Mangiapane, tiene palla lì, mette in mezzo Mangiapane. Arriva Orlando, il tiro, il gol! Orlando, due a zero, Chiara Montana! Ancora in avanti, non c'è fuorigioco, prende palla, attenzione Mangiapane. E poi rientra Enrico Giunta e mette in fallo laterale. Ferma tutto Catania e riparte, riparte Catania. Vediamo un po', non c'è il fuorigioco per Mangiapane un po'. Si defila il pallone, Mangiapane, mette in mezzo il cross, Catania, il tiro ancora attraversa! Misuraka in avanti, attenzione, c'è Mangiapane lì, il tiro di Mangiapane! Fuori di un soffio. Ancora tiene palla lì, adesso Daidone, il tiro di Daidone. La parata di Maritato è facile. Monella è in questo istante l'arbitro Pantaleo di Marsala, fischia la fine dell'incontro.